Non poteva essere altrimenti. Piccolo Corvo, 1803-1863, indiano d'America, del popolo Dakota, figlio del capo Grande Tuono e della madre Minio Cadawin. Durante la giovinezza visse barattando pelli di bisonte contro whisky. Con i trattati del 1851, Piccolo Corvo e i capi delle varie tribù Dakota firmarono una serie di trattati con i quali cedevano i loro immensi territori per una piccola striscia di terreni ai lati del fiume Minnesota. I Dakota furono truffati, ricavarono poche decine di dollari a testa, umiliati, affamati e ingannati dai mercanti, dai funzionari e dal governo americano. Nel 1862 i popoli Dakota iniziarono la guerra chiamata di Piccolo Corvo. Dopo molti massacri, provocati e subiti, e dopo la tremenda sconfitta, Piccolo Corvo si rifugiò con uno dei suoi figli nei boschi del Minnesota. Il figlio raccontò così la morte del padre ad opera di un colono. «Sono il figlio di Piccolo Corvo e il mio nome è Uovinape. Ho sedici anni. Mio padre si nascose dopo che i soldati ci sconfissero l'autunno scorso. Non avevamo più cavalli ed eravamo molto affamati. Mio padre ed io stavamo raccogliendo bacche nei pressi di Scatel Lake. «Era quasi notte. Egli fu colpito prima al fianco, sopra l'anca, e poi alla spalla, e fu il colpo che l'uccise. Mi disse che era colpito a morte e mi chiese dell'acqua. Così morì. Piccolo Corvo e tutti gli indiani d'America non furono vittime di atroci ingiustizie?» Commento «Non poteva essere altrimenti. La minore evoluzione è sempre scacciata dalla maggiore evoluzione. Per la legge, nell'ambito di una umanità, la comunità fisica e i popoli che la compongono devono cedere il passo alla comunità fisica più evoluta». Più che ci sono altrimenti. Grazie a tutti